Francesca Fazio e Vincenzo Interrante nel Catà, Samuele Albanese e Mattias Albanese nel Kumite. Questi i nomi dei quattro atleti che la Karate Judoclub di Sciacca ha qualificato per il campionato italiano categoria Juniors che si terrà dal 20 al 22 maggio ad Ostia Lido. La gara regionale si è svolta a Melilli, nel Siracusano, ad accompagnare gli atleti come sempre l'istruttore seccense Michele Catanzaro, che abbiamo intervistato. Sì, ieri giornata immensa, di gara, infinita. È andata benissimo, abbiamo ottenuto un meritatissimo terzo posto con l'atleta Francesca Fazio nel Catà femminile. Si è distaccata di pochissimo con le atleti emergenti che stanno sempre sopra il gradino più alto del podio rispetto a lei. Però quest'anno abbiamo avuto miglioramenti ottimi sulla prestazione. Il punteggio è stato proprio poca la differenza che poteva ancora salire sul podio al gradino più alto. Buona anche la prova di Federica Tarallo, però la ragazzina si è trovata in un gruppo dove c'erano delle atlete fisicamente più dotate di lei. Però tecnicamente c'era, c'è ancora da lavorare e da migliorare. Per quanto riguarda il Kumite invece? Sì, nel Kumite buona prova degli atleti albanese, sia Samuele nei 50 kg che si è fermato al terzo posto. Buona anche la prova di Mattias Albanese che al secondo anno cadetto ha partecipato alla gara junior, ha trovato nella sua categoria dei pesi massimi ragazzoni molto più alti, ha gestito bene la gara, anche egli ha fatto il quinto posto e si è qualificato per i campionati nazionali. Domenica tornata in pedana con un'altra categoria. Domenica siamo impegnati pure a Palermo con la categoria dei più piccoli e degli esordienti dove la Karate Judo Club schiererà 5 atleti. Un atleta di Catà, tra l'altro che di Sala Paruta, tesserato con la Karate Judo Club e altri 4 atleti di Kumite, tra cui uno di Menfi, due di Sciacca e uno di Raffadali, sempre tesserati per la Karate Judo Club. Queste sono tutte gare regionali che poi vi porteranno eventualmente alle finali di Ostia Lido. Sì, questa sarà la qualificazione regionale che si fa ogni anno di classe che poi chi si qualifica partirà per i campionati italiani di classe. Quali sono gli obiettivi di questa parte del semestre? Gli obiettivi sono quelli intanto di esserci sempre, fare un buon Karate, dimostrare sempre le nostre prestazioni, il nostro voler fare, il nostro mettersi in gioco, per poi sperare sempre ai campionati italiani di fare qualcosa. Ovviamente la Karate, dico sempre ai ragazzi che è un'incognita, è sempre fino a se stessa, quindi può essere la giornata sì, può essere il sorteggio magari più a favore, può essere l'atleta che in quel momento magari è più calante, tu stai migliorando, quindi speriamo bene insomma, noi facciamo sempre la nostra bella figura in primi sti di educazione sportiva, poi arriva il Karate, poi arrivano le medaglie, però quello che conta è veramente fare un buon Karate e portarselo dentro per sempre. Per quanto riguarda invece il Michele Catanzaro atleta, che cosa bolla in vento? Michele Catanzaro nei Master aspetta di ripartire ormai ad ottobre come circuito di gare, abbiamo il campionato italiano Master A, che poi per tutte le altre linee di Master ad ottobre, per poi a poco a poco rientrare nel circuito di gare internazionale e arrivare al Mondiale 2023 che si svolgerà a Kansai in Giappone.